Quella seconda settimana fu davvero contenta la signora Fisher che Kate Lamley non fosse lì. Sarebbe stato ancora più spiacevole avere Kate come spettatrice. Se fosse accaduto qualcosa di strano nel suo comportamento, Kate la conosceva da sempre. La signora Fisher sentiva che poteva lasciarsi andare. Qui corrugò la fronte davanti al libro su cui stava tentando inutilmente di concentrarsi da dove arrivava quell'espressione. Molto meno dolorosamente davanti a degli estranei che davanti a una vecchia amica. I vecchi amici, riflette la signora Fisher, che credeva di essere immersa nella lettura, ti paragonano continuamente a quello che eri un tempo. Lo fanno sempre se una persona cambia. Si sorprendono dei cambiamenti, arrivano al passato e quando una persona arriva, diciamo, a 50 anni, si aspettano che resti immutata fino alla fine dei suoi giorni. Questo, pensò la signora Fisher, con gli occhi che seguivano imperterriti ogni riga fino alla fine della pagina senza che una sola parola le arrivasse alla coscienza, è sciocco da parte degli amici. È come condannare una persona a una morte prematura. Si dovrebbe continuare, naturalmente, con dignità a cambiare per quanto vecchi si diventi. Lei non aveva niente contro il cambiamento, contro una ulteriore maturità, perché finché si era vivi non si era morti, ovviamente, decise la signora Fisher, e il cambiamento, la crescita, la maturazione erano la vita. Quel che avrebbe disprezzato era la regressione, il ritorno a una condizione di maturità lo avrebbe disprezzato intensamente, e questo era quel che le pareva di essere sul punto di fare. Si sentì a disagio e riuscì a distrarsi soltanto muovendosi in continuazione. Era sempre più irrequieta e non riusciva più a rimanere isolato tra i suoi merli, ma vagava di continuo e senza scopo fuori e dentro il giardino superiore, con crescente sorpresa di Scrap, soprattutto quando scoprì che la signora Fisher non faceva che guardare per alcuni minuti il panorama, raccogliere qualche foglia morta dai cespugli di rose e allontanarsi di nuovo. Trovò un sollievo temporaneo nella conversazione con signor Wilkins, ma anche se lui la raggiungeva appena poteva, non sempre era disponibile, perché divideva saggiamente le sue attenzioni tra le tre signore, e quando si trovava altrove, lei doveva affrontare e gestire da sola i propri pensieri come meglio poteva. Era forse l'eccesso di luce e di colore di San Salvatore, che faceva apparire buio e nero ogni altro luogo, e così Prince of Wales Terrace, dove presto sarebbe tornata, pareva una strada buia e stretta, e la sua casa buia e stretta come la strada, e dentro nulla di veramente vivo o giovane. I pesciolini rossi non si potevano certo dire vivi, tutt'al più quasi vivi e di sicuro non giovani, e oltre loro vi erano soltanto le domestiche, vecchie e polverose anch'esse. Vecchie e polverose. La signora Fisher arrestò i suoi pensieri, sorpresa da quella strana espressione. Da dove le veniva? Come l'era saltata in mente? Doveva trattarsi di una di quelle che usava la signora Wilkins così frivola, quasi gergale? Sì, doveva essere così, e lei gliel'aveva sentita dire e l'aveva imparata senza accorgersene. In tal caso la questione si faceva preoccupante. Era sconvolgente che quella sciocca creatura penetrasse nel profondo della mente della signora Fisher e vi si insediasse con la sua personalità. Una personalità che, a dispetto dell'armonia esistente tra lei e suo marito, tanto intelligente, rimaneva lontana da quella della signora Fisher, totalmente estranea a quello che lei sentiva e apprezzava. Infettandola con le sue frasi sgradevoli. Un'espressione simile non era mai entrata nella mente della signora Fisher, mai in vita sua aveva pensato alle sue domestiche né a nessun altro come a qualcosa di vecchio e polveroso. Le sue domestiche non erano vecchie e polverose, erano donne pulite e rispettabili, alle quali ogni sabato sera era permesso fare il bagno. Anziane, questo sì, ma lo era anche lei, come la sua casa, i mobili, i pesci rossi. Tutto era invecchiato insieme, come giusto. Ma c'era una bella differenza tra essere anziani ed essere vecchi e polverosi. Come era vero ciò che disse Raskin, che le chiacchiere vane corrompono le buone maniere. Ma l'aveva detto Raskin? Ripensandoci non ne fu più tanto sicura, ma questo era comunque il genere di cose che avrebbe potuto dire lui e comunque era una sacrosanta verità. Bastava ascoltare le chiacchiere vane della signora Wilkins durante i pasti per rovinare il suo abito mentale, anche se lei non ascoltava, evitava di farlo. Evidentemente le aveva sentite e siccome erano spesso volgari, oltre che indelicate e profane, e le spiaceva doverlo dire, ma facevano sempre ridere Lady Caroline, erano senz'altro da considerarsi dannose. E col passare del tempo non solo avrebbe pensato a queste sciocchezze, le avrebbe anche dette. Ah come, sarebbe stato terribile. Se la sua evasione doveva assumere la forma di un linguaggio sconveniente, la signora Fisher temeva allora che per nulla il mondo sarebbe riuscita a sopportarlo. A questo punto la signora Fisher desiderò più che mai parlare delle sue strane sensazioni con qualcuno che potesse capirla. Non c'era nessuno, tuttavia, tranne la stessa Lotti. Lei avrebbe capito, avrebbe compreso subito come si sentiva. La signora Fisher ne era certa, ma era impensabile. Sarebbe stato indegno come implorare protezione contro una malattia, lo stesso microbo che ti aveva infettata. Continuò, pertanto, a sopportare in silenzio le sue sensazioni che la spingevano a quelle frequenti comparse senza meta nel giardino superiore che attirarono subito l'attenzione di scrap. Lei, infatti, le aveva notate e non ne fu meravigliata perché alcune mattine prima il signor Wilkins, sistemandole i cuscini, aveva stabilito che l'assistenza giornaliera di Lady Caroline, quando si trovava nella sua poltroncina, fosse un privilegio riservato esclusivamente a lui, le aveva chiesto se la signora Fisher avesse qualcosa che non andava. In quel momento la signora Fisher era in piedi accanto al parapeto esterno e, riparandosi gli occhi, era assorta a guardare in lontananza le case bianche di Mezzago. La videro attraverso i rami delle Daphne. «Non so», disse Scrapp. «Avrei giurato che una signora così, disse il signor Wilkins, non potesse avere dei pensieri». «Direi di no», disse Scrapp sorridendo. «Se ne ha, e la sua irrequietezza sembra suggerirlo, sarei più che lieto di aiutarla con dei buoni consigli». «Oh, sono certa che sarebbe molto gentile da parte sua». «Naturalmente avrà il suo consulente legale, che però adesso non è qui, ma ci sono io e un avvocato a portata di mano oggi», disse il signor Wilkins, che quando parlava con Lady Caroline si sforzava di rendere frivola la sua conversazione, sapendo che con le donne giovani bisognava mostrarsi frivoli. Per non essere banali, finiamo il proverbio dicendo «è meglio di uno domani a Londra». «Dovreste chiederglielo». «Chiederle se ha bisogno di aiuto? Voi me lo consigliereste? Non sarebbe una questione un po'... un po' delicata da affrontare? Chiedere a una donna se ha dei pensieri?» «Forse se andate a parlarle ve lo dirà. Penso che ci si senta soli al posto della signora Fisher». «Oh, siete sensibile e premurosa», dichiarò il signor Wilkins, desiderando per la prima volta in vita sua poter essere un estraneo per baciarle la mano con rispetto, mentre si ritirava per recarsi obbedientemente a portare sollievo alla solitudine della signora Fisher. Era stupefacente la varietà dei piani che Scrap escogitava per allontanare il signor Wilkins dal suo angolino. Ogni mattina ne trovava uno diverso, che lo mandava via soddisfatto dopo che le aveva sistemato i cuscini. Lei gli permetteva di farlo perché si era accorta immediatamente nei primi cinque minuti della primissima sera che i suoi timori, che lui le si attaccasse rimanendo a fissarla in timorosa ammirazione, erano infondati. Il signor Wilkins non ammirava in quel modo, non solo non era da lui, comprese Scrap istintivamente, ma se anche lo fosse stato con lei non avrebbe osato. Era troppo rispettoso. Lei poteva guidare i suoi movimenti semplicemente con un battito di ciglia. La sua unica preoccupazione era obbedire. Era pronta ad apprezzarlo se solo si fosse dimostrato così compiacente da non ammirarla e lo apprezzò. Non dimenticò la sua commovente vulnerabilità in quell'asciugamano la prima mattina. Inoltre lui la divertiva ed era gentile con Lotti. È vero che preferiva quando non c'era, ma di solito preferiva tutti quando non c'erano. Sembrava proprio uno di quegli uomini rari, secondo la sua esperienza, che non guardano mai una donna in modo rapace. E questo era confortevole. Semplificava i rapporti all'interno della compagnia. Da questo punto di vista il signor Wilkins era semplicemente ideale, raro e prezioso. Ogni volta che pensava a lui, magari con l'intenzione di soffermarsi sui suoi aspetti un po' noiosi, se ne ricordava e mormorava che tesoro. Ed essere un tesoro era ciò a cui mirava il signor Wilkins durante la sua permanenza a San Salvatore. Le tre signore, oltre a sua moglie, dovevano a tutti i costi apprezzarlo e avere fiducia in lui, perché allora, quando nella loro vita si fosse presentato un problema, e nella vita di chi prima o poi non se ne presenta uno, avrebbero ricordato quanto fosse affidabile e comprensivo e si sarebbero rivolte a lui per un consiglio. Le signore con dei problemi facevano proprio al caso suo. Per il momento Lady Caroline, osservò lui, non ne aveva, ma una tale bellezza, perché non poteva non notare l'evidenza, doveva aver avuto i suoi problemi in passato e ne avrà ancora di più prima di scomparire. In passato lui non era stato a portata di mano, ma sperava di esserlo in futuro, e intanto il comportamento della signora Fisher, che dal punto di vista professionale veniva subito dopo Lady Caroline per importanza, prometteva sicuramente bene. Era quasi certo che la signora Fisher avesse dei pensieri, l'aveva osservata attentamente e ne era quasi certo. Con la terza, con la signora Arbotnot, fino ad ora aveva fatto pochi progressi, perché era così riservata e silenziosa, ma questa riservatezza, questa tendenza a evitare gli altri e a trascorrere il tempo da sola, non poteva indicare anche in lei la presenza di qualche preoccupazione? In tal caso era lui, l'uomo adatto, l'avrebbe frequentata, l'avrebbe seguita e le si sarebbe seduto accanto, incoraggiandola a parlargli di sé. Seppe Dalotti, che Arbotnot era un impiegato del British Museum, al momento non particolarmente importante, ma il signor Wilkins giudicò a suo dovere conoscere ogni minimo particolare. Dopotutto esistevano le promozioni, magari dopo una promozione Arbotnot sarebbe divenuto qualcuno. Quanto a Lotti, era deliziosa, possedeva davvero tutte le qualità che lui le aveva attribuito durante il corteggiamento e che finora pareva fossero state semplicemente messe da parte. Le prime impressioni che aveva avuto di lei adesso erano confermate dall'affetto e persino dall'ammirazione che mostrava per lei Lady Caroline. Lady Caroline Dester era l'ultima persona, ne era sicuro, che avrebbe commesso un errore al riguardo. La sua conoscenza del mondo, i suoi continui rapporti, solo con gli ambienti migliori dovevano averla resa infallibile. Allora Lotti non poteva che essere quello che lui aveva pensato prima del matrimonio. Preziosa! Lui era stata senz'altro a fargli conoscere Lady Caroline e la signora Fisher. Un uomo con la sua professione poteva ricevere un aiuto incalcolabile da una moglie affascinante e intelligente perché non lo era stata subito. Perché questa fioritura improvvisa? Anche il signor Wilkins cominciò a credere che ci fosse qualcosa di particolare nell'atmosfera di San Salvatore. Stimolava la crescita, risvegliava qualità assopite e sentendosi sempre più soddisfatto, addirittura affascinato da sua moglie e molto contento del progresso che stava facendo con le altre due, oltre che fiducioso del progresso che avrebbe fatto con la terza signora, la più riservata, il signor Wilkins non ricordò di aver mai trascorso una vacanza così piacevole. L'unica cosa che si poteva forse migliorare era il modo in cui veniva chiamato signor Wilkins. Nessuno diceva mai signor Mellersh Wilkins, eppure si era presentato a Lady Caroline per un attimo trasalire, ricordando le circostanze come Mellersh Wilkins. Questa era però una questione di poco conto di cui non si doveva preoccupare. sarebbe stato uno sciocco se in un posto simile e con una simile compagnia si fosse preoccupato di qualcosa. Non si preoccupava neppure di quanto sarebbe costata la vacanza, e non solo aveva deciso di pagare la sua parte di spese, ma anche quella di sua moglie. L'avrebbe sorpresa alla fine mostrandole il suo gruzzoletto intatto, come quando era partita, e la sola idea di farle una bella sorpresa lo faceva sentire più affettuoso che mai nei suoi confronti. Infatti il signor Wilkins, che all'inizio aveva deciso coscientemente e pianificato di fare il possibile per comportarsi bene, continuò a farlo inconsciamente e senza il minimo sforzo. E intanto i bei giorni dorati si staccavano dolcemente uno ad uno dalla seconda settimana, altrettanto belli di quelli della prima, e a ogni soffio d'aria giungeva a San Salvatore il profumo dei campi di fagioli in fiore sulla collina dietro il paese. Quella seconda settimana nel giardino il narciso dei poeti scomparve dall'erba alta sul margine del sentiero zigzag e al suo posto venne il gladiolo selvatico, sottile e sfumato di rosa. I garofani bianchi fiorirono sui bordi riempiendo tutto il luogo del loro profumo dolce e fumoso, e un cespuglio, che nessuno aveva notato, traboccò di gloria e di fragranza. Era un lillà color porpora. Una simile mescolanza di primavera e di estate era incredibile, se non per chi in quei giardini risiedeva. Sembrava che tutto fiorisse contemporaneamente. In un solo mese si ammassò ciò che in Inghilterra compariva stento nell'arco di sei mesi. Un giorno la signora Wilkins trovò persino le primule in un angolo freddo in cima alle colline e quando le portò giù accanto ai gerani e all'eliotropio di San Salvatore. Sembrò quasi che fossero intimidite. Capitolo 17. Il primo giorno della terza settimana Rose scrisse a Frederick. Per paura di altre esitazioni e di non spedire la lettera la diede a Domenico che la imbucasse lui, perché se non gli avesse scritto ora non sarebbe rimasto altro tempo. Metà del mese a San Salvatore era già trascorsa. Anche se Frederick fosse partito appena che naturalmente non gli sarebbe riuscito, un po' per le valigie e il passaporto, un po' perché non aveva nessuna fretta, prima di cinque giorni non sarebbe arrivato. Appena l'ebbe fatto Rose se ne pentì, non sarebbe venuto né si sarebbe disturbato a rispondere. Anche se avesse risposto avrebbe trovato delle scuse per non raggiungerla, per esempio che era troppo impegnato e scrive gli era servito soltanto a renderla più infelice di prima. Cosa non si faceva quando non si aveva niente da fare? Questa risurrezione di Frederick, o meglio questo tentativo di risuscitarlo, che cos'era se non il risultato di non avere niente da fare? Desiderò di non essere mai venuta in vacanza. Che cosa pretendeva da una vacanza? Il lavoro era la sua salvezza, l'unica cosa che proteggeva una persona, che dava stabilità e manteneva intatti i suoi valori. A casa, a Hampstead, quando era assorbita dai suoi impegni, era riuscita a dimenticare Frederick, pensando a lui con la dolce malinconia con cui si pensa qualcuno amato un tempo e ormai morto. Ma adesso questo posto tranquillo e l'ozio da cui era invaso l'avevano rigettata nella miserabile condizione dalla quale Ania dietro è riuscita a uscire, a piccoli passi, perché se Frederick fosse venuto, lei lo avrebbe solo annoiato. Non aveva forse visto come in un lampo, appena arrivata a San Salvatore, che proprio per quel motivo lui si era allontanato? E perché avrebbe dovuto pensare che adesso, dopo un lungo periodo di allontanamento, sarebbe riuscita a non annoiarlo, a non rimanere invece impalata davanti a lui come un'idiota ammutolita dal peso che aveva nell'anima. Senza contare l'angoscia delle suppliche. Ti prego, aspetta ancora un poco, ti prego non essere impaziente, fra poco non ti annoierò più. Mille volte al giorno Rose si pentiva di non aver lasciato in pace Frederick, quando Lotti, che ogni sera le chiedeva se aveva spedito la lettera, si sentì infine rispondere di sì, lanciò esclamazioni di gioia e le gettò le braccia al collo. Adesso saremo pienamente felici, gridò l'entusiasta Lotti, ma niente sembrava meno probabile a Rose che divenne sempre più pensierosa. Il signor Wilkins, desideroso di scoprire che cosa l'affliggesse, gironzolava al sole con in testa il suo Panama e prese a incontrarla come per caso. Non sapevo, disse la prima volta il signor Wilkins, sollevando il cappello con cortesia, che anche a voi piacesse questo posto. E le si sedette accanto. Nel pomeriggio lei scelse un altro posto e non era lì neanche da mezz'ora, quando il signor Wilkins spuntò da dietro l'angolo facendo adeggiare il suo bastone con leggerezza. Oh, siamo destinati a incontrarci nelle nostre passeggiate, disse il signor Wilkins cordialmente, e le si sedette accanto. Il signor Wilkins era molto gentile e lei si forse di averlo giudicato male a Hampstead. Qui dava il meglio di sé, maturato come un frutto al sole benefico di San Salvatore. Rose però voleva stare sola. Tuttavia gli era grata perché le dimostrava che nonostante per Frederick potesse essere noiosa, non lo era per tutti. Altrimenti non sarebbe rimasto a parlare con lei ogni volta che ne aveva l'occasione fino allora di rientrare. Certo lui la annoiava, ma fosse stata lei ad annoiare lui sarebbe stato assai peggio. Ciò avrebbe turbato profondamente la sua vanità, perché non riuscendo più a pregare, Rosa adesso era assalita da ogni sorta di debolezze. Era vanitosa, permalosa, irritabile, combattiva. Demoni strani e sconosciuti si affollavano in lei, impossessandosi del suo cuore vuoto e trascurato. In vita sua non era mai stata vanitosa né irritabile o combattiva. Forse San Salvatore era capace di effetti opposti? E lo stesso sole che faceva maturare il signor Wilkins inacerbiva a lei? Per essere certa di restare sola, la mattina seguente, mentre il signor Wilkins si attardava piacevolmente a fare colazione con la signora Fisher, scese agli scogli sul mare dove lei e Lottie si erano sedute il primo giorno. Ormai Frederick aveva ricevuto la lettera e oggi, se gli fosse stato come il signor Wilkins, lei avrebbe ricevuto un suo telegramma. Cercò di soffocare quell'assurda speranza ridendoci sopra, eppure se il signor Wilkins aveva mandato un telegramma, perché non Frederick? A quanto pare la magia di San Salvatore si celava anche nella carta da lettere. Lottie non si sognava neppure di ricevere un telegramma, e quando rientrò per il pranzo c'era. Sarebbe stato meraviglioso se quando fosse tornata per pranzo ce ne fosse stato uno anche per lei. Rose strinse forte le ginocchia tra le mani, con che intensità desiderava di nuovo essere importante per qualcuno, non di esserlo sulle tribune o come membro di un'organizzazione, ma importante nella vita privata per una persona soltanto nell'intimità, senza nessuno che lo sapesse o vi badasse. In un mondo così affollato non sembrava pretendere troppo. Chiedeva solo una persona, una tra tutti quei milioni, tutta per sé. qualcuno che avesse bisogno di te, che ti pensasse, che fosse ansioso di vederti. Oh, com'era forte il desiderio di sentirsi preziosa. Rimase tutta la mattina seduta sotto il pino accanto al mare. Nessuno si avvicinò. Le ore passarono lentamente, parvero interminabili. Ma non voleva salire prima di pranzo. Voleva lasciare che il telegramma avesse il tempo di arrivare. Quel giorno Scrap, incitata dall'insistenza di Lotti e pensando che forse era stata seduta troppo a lungo, si alzò dalla sua poltroncina e dai cuscini e andò insieme con Lotti e dei panini su tra le colline fino a sera. Il signor Wilkins, che desiderava unirsi a loro, su consiglio di Lady Caroline rimase con la signora Fisher per allegrare la sua solitudine e anche se verso le undici smese di rallegrarla per andare in cerca della signora Arbotnot e consolare un pochino anche lei, dividendosi imparzialmente tra queste signore solitarie, tornò subito dopo asciugandosi la fronte e riprese con la signora Fisher da dove si era interrotto, perché questa volta la signora Arbotnot si era nascosta bene. Per lei, oltretutto, c'era anche un telegramma, notò lui entrando. Peccato che non sapesse dove fosse. «Dovremmo aprirlo?» chiese la signora Fisher. «No!» disse lei. «Magari è necessario rispondere subito». «No, non trovo giusto ficcare il naso nella corrispondenza degli altri». «Ficcare il naso? Mia cara signora!» Il signor Wilkins era sconvolto. Che espressione! «Ficcare il naso!» Nutriva grande stima per la signora Fisher, ma a volte la trovava una persona un po' difficile. Lei lo apprezzava, ne era sicuro e sentiva che era sulla strada giusta per diventare una sua cliente, ma temeva che sarebbe stata una cliente reticente e testarda. Reticente lo era di sicuro, perché nonostante fosse stato disponibile e comprensivo per una settimana intera, fino ad ora lei non aveva fatto nessun accenno a ciò che evidentemente la preoccupava. «Povera vecchia!» disse Lotti quando lui le chiese se sapeva far luce sui problemi della signora Fisher. «È senza amore». «Amore?» Il signor Wilkins poteva solo ripetere sinceramente scandalizzato. «Ma sicuramente, mia cara, alla sua età!» «Ho qualunque tipo di amore», disse Lotti. Proprio quella mattina aveva chiesto a sua moglie perché adesso cercava e rispettava la sua opinione, se poteva dirgli che cosa avesse la signora Arbotnot, perché anche lei, sebbene lui avesse fatto il possibile per conquistarne la fiducia, era ancora ostinatamente riservata. «Oh, lei vuole suo marito?» disse Lotti. «Ah!» fece il signor Wilkins mentre veniva fatta luce sulla timida e modesta malinconia della signora Arbotnot, poi aggiunse «Oh beh, è naturale». Lotti continuò sorridendogli. «Succede a tutte!» Il signor Wilkins sorridendole «A tutte?» Lotti sorridendogli di rimando «Certo!» Il signor Wilkins fu soddisfatto di lei e sebbene fosse molto presto, un'ora in cui le carezze sono ancora indolenti, le pizzicò un orecchio. Appena prima delle dodici e trenta, Rose salì lentamente attraverso il pergolato tra le camellie schierate sui due lati dei vecchi scalini di pietra. I rivoletti di pervinche, che quando era arrivata scendevano lungo di essi, erano scomparsi e adesso c'erano questi cespugli dalle forme sorprendenti. Rosa, bianche, rosse, striate, tene le camellie tra le dita e le annusò tutte una dopo l'altra, così da rimandare il più possibile il momento della sua delusione. Finché non vedeva con i suoi occhi, non vedeva il tavolo dell'atrio senza niente sopra, se non il solito vaso di fiori, poteva ancora sperare, provare la gioia di immaginarsi il telegramma lì ad aspettarla, ma le camellie non hanno profumo, le ricordò il signor Wilkins, che era in piedi sulla porta e che conosceva quel che bastava di floricoltura. A quella voce lei sussultò e guardò in su. È arrivato un telegramma per voi, disse il signor Wilkins. Lo guardò con la bocca spalancata. Vi ho cercato ovunque ma in vano. Certo, lo sapeva, ne era sempre stata sicura. Brillante e focosa in quell'attimo la giovinezza tornò ad accendere il volto di Rose che volò su per gli scalini, rossa come la camellia che aveva appena tenuto tra le dita e giunta nell'atrio strappò il telegramma per aprirlo, prima che il signor Wilkins riuscisse a finire la frase. Se le cose potevano accadere così non c'era fine alla... allora lei e Frederick sarebbero di nuovo, di nuovo, finalmente... Nessuna cattiva notizia, spero, disse il signor Wilkins, che l'aveva seguita perché lei, dopo aver letto il telegramma, rimase a fissarlo e impallidì lentamente. Si voltò e guardò il signor Wilkins quasi faticasse a ricordare chi fosse. Oh no! Al contrario, tentò di sorridere. Riceverò visite, lo disse porgendo il telegramma e dopo averglielo dato si incamminò verso la sala da pranzo bisbigliando qualcosa sul fatto che il pranzo era pronto. Il signor Wilkins lo lesse. Era stato inviato quella mattina da Mezzago e diceva di passaggio diretto a Roma posso porgere i miei rispetti questo pomeriggio? Thomas Briggs. Perché un telegramma simile avrebbe dovuto fare impallidire quella misteriosa signora? Leggendolo era impallidita in modo così impressionante che il signor Wilkins si era convinto che si fosse presa un bel colpo. Chi è Thomas Briggs chiese seguendola in sala da pranzo? Lo guardò distrattamente. Chi è? Ripetè cercando di riordinare i pensieri. Thomas Briggs? Ah sì, è il proprietario, questa è casa sua, è molto gentile, arriva oggi pomeriggio. Thomas Briggs stava arrivando in quel preciso istante. Sobalzava nella carrozza lungo la strada tra Mezzago e Castagneto augurandosi di cuore che la signora dagli occhi scuri comprendesse che tutto quel che voleva era vedere lei e non vedere se la casa fosse ancora lì. Si sentiva che per delicatezza un proprietario non dovesse imporsi a un affittuario. Ma l'aveva pensata tanto da quel giorno. Rose Arbotnot, un nome così bello e una creatura così bella, dolce, lattea e materna, nel miglior senso del termine, cioè che non era sua madre e non poteva esserlo neppure volendo, perché i genitori erano gli unici a non poter essere più giovani di te. Inoltre passava proprio di lì. Sembrava assurdo non fare un salto, a vedere se lei si trovava bene. Desiderava vederle in casa sua, vedere la sua casa che le faceva da sfondo, lei seduta sulle sue sedie, bere dai suoi bicchieri, usare tutte le sue cose. Chissà se metteva il grande cuscino di broccato cremisi del salone dietro alla sua piccola testa castana. I suoi capelli e il biancore della pelle sarebbero stati bene contro quel cuscino. Chissà se aveva visto il suo ritratto sulle scale, chissà se le piaceva, glielo avrebbe spiegato. Se non dipingeva e non aveva detto niente che lo facesse pensare, forse non avrebbe notato con quale precisione la curva delle sopracciglia e il leggero incavo della guancia. Disse al cocchiere di aspettare a Castagneto. Attraversò la piazza, accompagnato dal clamore di cani e dei bambini che lo conoscevano, e spuntarono fuori dal nulla all'improvviso. E camminò di buon passo su per il sentiero zigzag, perché era un giovane dinamico di poco più di trent'anni. Tirò la vecchia catena che faceva suonare la campanella e aspettò dignitosamente dalla parte giusta della porta aperta che lo si facesse entrare. Vedendolo Francesca alzò al cielo tutto quello che riusciva, le sopracciglia, le palpebre, le mani, e gli assicurò con un discorso prolisso che era tutto in perfetto ordine che lei stava facendo il suo dovere. Certo, certo, disse il signor Briggs, tagliando corto. Nessuno ne dubita. Poi le chiese di portare il biglietto da visita alla sua padrona. Quale padrona? chiese Francesca. Come quale padrona? Ce ne sono quattro, disse Francesca, fiutando una irregolarità da parte delle affittuari al vedere il suo padrone sorpreso, e si sentì sollevata perché la vita è monotona e le irregolarità aiutano a tirar avanti. Quattro? ripete sorpreso. Va bene, allora portalo a tutte quante, disse riprendendosi dopo aver notato l'espressione di lei. Stavano bevendo il caffè nel giardino superiore all'ombra del pino a ombrello. C'erano soltanto la signora Fischere e Lotti, perché la signora Arbotnot, che a pranzo non aveva mangiato nulla ed era stata sempre zitta, era scomparsa subito. Mentre Francesca si dirigeva in giardino con il biglietto da visita, il suo padrone rimase in piedi sulle scale ad ammirare il quadro di quella madonna di un antico pittore italiano anonimo che lui stesso aveva comprato a Orvieto e che assomigliava così tanto alla sua affittuaria. Era davvero eccezionale la somiglianza. Naturalmente quel giorno a Londra lei aveva il cappello, ma lui era sicurissimo che i suoi capelli sulla fronte fossero identici. L'espressione degli occhi dolce e seria era esattamente la stessa e lui si rallegrò pensando che avrebbe sempre avuto il suo ritratto. Guardò su, sentendo dei passi, ed eccola che scendeva le scale, proprio come l'aveva immaginata in quel luogo vestita di bianco. Lei si stupì vedendolo così presto. Aveva pensato che sarebbe arrivato verso l'ora del tè e fino ad allora aveva deciso di sedere all'aria aperta in un luogo in cui potesse stare sola. E lui la guardò mentre scendeva le scale con interesse ancora più vivo. Tra un attimo sarebbe stata a livello del suo ritratto. Oh, è davvero straordinario, disse Briggs. Salve, disse Rose, che si sforzava per accoglierlo con sufficiente cordialità. Non lo accoglieva volentieri. Era qui, pensò lei, col telegramma che le stringeva il cuore, invece di Frederick, e faceva ciò che avrebbe voluto veder fare a Frederick. Gli aveva preso il posto. State ferma soltanto un attimo. Lei obbedì in modo meccanico. Oh sì, davvero stupefacente. Vi dispiace togliervi il cappello? Rose, sorpresa, lo tolse, obbediente. Sì, lo sapevo già, ma volevo accertarmene. Guardate, avete notato? Iniziò a passare la mano sul viso del quadro con gesti rapidi e strani, misurandolo e guardando prima quello e poi lei. La sorpresa di Rose si tramutò in divertimento e non poteva fare a meno di sorridere. Siete venuto a confrontarmi con l'originale? chiese. Ma vedete anche voi la straordinaria somiglianza, disse lui. Non sapevo di avere un aspetto così solenne, fece Rose. E non l'avete, non adesso, ma l'avevate un attimo fa, altrettanto solenne. Oh sì, oh salve! Concluse all'improvviso notando la mano che lei gli tendeva. Rise e le strinse la mano arrossendo. Come gli succedeva sempre, fino alla punta dei suoi capelli biondi. Tornò Francesca. La signora Fisher, disse, sarebbe felice di vedervi. E chi è la signora Fisher? chiese lui a Rose. Una delle quattro signore che dividono la vostra casa. Allora siete in quattro? Sì, la mia amica e io abbiamo visto che non potevamo permettercela da sole. Oh, davvero? Iniziò il signor Briggs, confuso, perché avrebbe preferito che Rose Arbotnot, che bel nome, non si dovesse permettere niente, ma che rimanesse a San Salvatore fino a quando voleva come sua ospite. La signora Fisher sta prendendo il caffè nel giardino superiore, disse Rose. Vi conduco da lei e ve la presento. Oh, non voglio andarci. Avete il cappello, quindi stavate andando a fare una passeggiata. Permettete che venga anch'io, mi piacerebbe infinitamente essere portato in giro da voi. Ma la signora Fisher vi sta aspettando. Beh, più tardi non ci sarà? Oh sì, disse Rose con quel sorriso che lo aveva tanto attratto il primo giorno. Ci sarà fino all'ora del tè. Parlate italiano? No, disse Rose. Perché? Al che lui si rivolse a Francesca dicendole con scioltezza, perché lo parlava correntemente, di tornare dalla signora nel giardino superiore e dirle che lui aveva incontrato la sua vecchia amica signora Arbotnot, che andava a fare una passeggiata con lei e che avrebbe fatto la sua conoscenza più tardi. Mi invitate a prendere il tè? Chiese a Rose quando Francesca se ne fu andata. Oh certo, è casa vostra. Non è vero, è vostra. Fino a lunedì prossimo, sorrise lei. Venite, mostratemi il panorama, disse lui con impazienza. E fu chiaro anche per la stessa Rose, abituata a sottovalutarsi, che lei non annoiava il signor Briggs.